Questa caffetta di vita, tanto tempo a ricovero degli uccelli, con questo ventaccio è stata scoperchiata, ecco qua, il coperchio e vedete chi vi abitava. Guardate che favo enorme e addirittura le vespe sono tutte rannicchiate, quelle sopravvissute, saranno letari, non so, freddo. Adesso se dovesse nevicare le finisce ad ammazzare, sarà stato gigantesco. Ce ne sono da tutte le parti, anche defunte. Ah, si muove, vedi, si muove, si muove. Il reggito inverno miete le sue vittime. Grazie.